Luca Cellini, ci sono news su Jovetic? Diciamo che le ultime novità danno il giocatore Montenegrino in trattativa con il Manchester City. Siamo alla definizione, dovremmo andare verso la cessione ai Citizen. Si sta parlando dei bonus, la Fiorentina dovrebbe cedere a una cifra e ottenere anche, come è successo già per Nastasic, una quota dei soldi che incassa dalle possibili presenze del giocatore sia in campionato che in campo europeo e soprattutto nei gol. Quindi è qualcosa che si va concludendo, chiedo che appena verrà definita la trattativa Jovetic ci saranno notizie positive, cioè l'ufficialità di Ilicic che è atteso per le visite mediche già dalla giornata di domani a Firenze. Gli AIC invece presenti qua a Moena partirà o non partirà? Gli AIC ci sono sensazioni positive per ciò che riguarda il suo rinnovo di contratto. Certo è che deve svoltare, mentalmente e fisicamente, mentalmente perché deve mettersi in testa del fatto che dopo tanto tempo che poteva lasciare Firenze, rinnovando il contratto deve rimanere in questa piazza e quindi calarsi nella mentalità che non sarà più titolare ma si giocherà il posto ad esempio con Giuseppe Rossi che è l'esterno sinistro che dovrebbe partire eventualmente nel 4-3-3, anche se Pepito non giocherà tutte le partite. Dall'altra parte deve migliorare fisicamente. Montella che non parla mai a casa ha detto una cosa, la prima Montecatini. Come ha visto l'Iaic? L'ho visto un po' ingrassato. Ieri ripetute, dopo la parte atletica, l'ultimo e lui non l'ha svolta perché un po' è vero che ha subito l'infortunio della caviglia sinistra a Montecatini, un po' fisicamente ancora non c'è e quindi se non migliorerà la condizione non vedremo il vero L'Iaic. Ci aspettiamo che magari dia qualche risposta nella prima amichevole che ricordo è sabato qui a Moena contro il Trentino Calcio, però è tutto un altro giocatore rispetto a quello che aveva finito increscendo lo scorso campionato.